Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. Il traffico scorre regolare in tutta la rete stradale e autostradale toscana. In A1 c'è un veicolo in fiamme tra Firenze Scandicci e il bivio A1-A11 Firenze Pisanord in direzione Bologna, sulla FIPILI restringimento di carreggiata nel tratto tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina per lavori in corso. In A11 tra Capannori e Alto Pascio direzione Firenze c'è un veicolo fermo in avaria. Sulla strada regionale 2 via Cassia, senso unico alternato per lavori tra i chilometri 268 e 500 e 269 e 950 nel comune di Barberino Tavarnelle. Ricordiamo che è in vigore l'obbligo di catene a bordo su autostrade, superstrade, statali ed extraurbane. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!